ciao a tutti e bentornati sul canale oggi faremo insieme una crostata morbida con lemon curd e fragole è un dolce fresco d'effetto è anche facilissimo da preparare ed è l'ideale per la festa della mamma visto che si avvicina e tra qualche giorno ho pensato appunto di farvi vedere questo dolce iniziamo dalla preparazione del lemon curd che è come una crema al limone però non si utilizza la farina e si utilizza il burro mettete all'interno di un pentolino le uova lo zucchero mescolatele insieme per far sì che lo zucchero si possa sciogliere poi ci mettiamo anche una buccia di limone grattugiata e anche il succo di due limoni circa 70 grammi quindi è molto strong come crema si sente tantissimo il sapore del limone ci mettete anche il burro e portate il pentolino sulla fiamma deve ovviamente sciogliersi il burro e deve addensare la crema ve ne accorgete quando inizia appunto a vedersi il giallo della crema quando diventerà bella gialla e densa allora potete spegnere la fiamma e continuare a mescolare sempre portatele moncord all'interno di una ciotolina copritela con pellicola trasparente e lasciatela completamente raffreddare nel frattempo ci dedichiamo alla preparazione della nostra base che questa crostata morbida è in realtà un vero e proprio pan di spagna ci mettiamo all'interno tre uova 90 grammi di zucchero un pizzico di sale e iniziamo a montare le uova con lo zucchero a questo punto senza smettere di mescolare aggiungiamo anche 40 grammi di olio di semi e aggiungiamo anche la farina 120 grammi di farina 00 sempre mescolando a questo punto è personale perché potete mettere anche della buccia di limone all'interno oppure se volete io ho messo la vanillina quindi potreste metterci anche la vaniglia e teteci anche mezza bustina di lievito per dolci utilizzo lo stampo furbo si chiama proprio così perché l'ideale per queste crostate morbide perché darà appunto una cavità all'interno della nostra crostata dove poi ci andrà la crema e utilizzo questo spray staccante dell'anno mi ha molto soddisfatto perché un po la la torta si è attaccata adesso non so se sono stata io ad averlo messo male o ne è successo qualcosa questa torta va a 180 gradi in forno statico per 20 minuti mi raccomando il forno deve essere già caldo una volta tirata fuori la torta la fate raffreddare poi la potete appunto togliere dallo stampo come potete vedere se è un po attaccata ma nulla di che magari era ancora troppo calda ed è stato questo il motivo comunque adesso vado a preparare anche una bagna con mezzo limone è un cucchiaino di zucchero che di lui con un po di acqua calda così avrete preparato in casa una bagna analcolica che va bene per qualsiasi torta quindi bagno la mia torta lascio asciugare un pochettino e poi ci vado a mettere sopra il lemon curd che sicuramente adesso si sarà raffreddato adesso è l'ora di decorare la torta come più preferite io per esempio ho scelto delle fragole dei limoni e delle foglie di menta e l'ho decorata solamente da un lato per fare questo effetto scenico ovviamente potete riempire la crostata di fragole se è ancora più buona e niente ragazze questa è la mia torta che ho deciso di preparare per la festa della mamma e ho deciso di darvi un'idea anche a voi spero tanto che questo video come sempre vi sia piaciuto mi raccomando lasciatemi un commentino qui sotto fatemi sapere che cosa ne pensate se provate a farla io intanto vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti